È un momento che abbiamo voluto dedicare alla città di Lanciano che è nel corso dei suoi festeggiamenti importanti che effettua in questi giorni, 1914, questo è l'anno in cui hanno costruito questa locomotiva, un bellissimo esempio di archeologia industriale, così l'abbiamo chiamato. È un segnale importante che ricorda la storia importante che questa città ha alle spalle, una storia di progresso industriale e soprattutto l'origine di quello che è poi la strada ferrata in tutta la nostra regione. Abbiamo voluto dare questo segnale di attenzione e di importanza alla storia dalla quale partiamo per costruire continuamente anche il futuro, quindi il futuro di Tua che nasce sulle fondamenta di Sangritana, il futuro di Sangritana Merci di cui abbiamo parlato anche oggi con il sindaco vive forte del suo passato e sul nome del suo passato cerca di costruire anche e rilanciare le nostre attività future sia sul settore Merci di Sangritana che sul TPL di Tua con le maestranze, il know-how, le esperienze e soprattutto con la passione che guida tutti gli uomini di questa azienda che hanno fatto sì poi che si realizzassero alcune cose. Dal 1914 in poi ma anche prima, molto prima nel 1914 c'è un'impronta forte delle manovalanze di questa azienda che hanno costruito tutto questo valore che è un valore industriale, un valore per il territorio. Questo qui rappresenta un pezzo di storia, un pezzo di storia del paese e anche della produzione industriale a livello europeo. Queste locomotive sono prodotte in Germania e alla fine diventano e sono denominate le T3, le prussiane, e diventano un punto di riferimento che poi viene venduto in tutta Europa. In particolare, 14 vengono assegnate all'Italia. Di queste 14, 6 alla ferrovia Adriatica Alta Valtellina che poi finiscono per le varie ferrovie regionali e alcune anche per quelle che erano allora le ferrovie dello Stato. Quindi che cosa rappresenta? Questo qui rappresenta un tributo alla storia dello sviluppo dei territori che va di pari passo con lo sviluppo della ferrovia. Abbiamo ridato alla città di Lanciano un pezzo pregiato del suo patrimonio storico. Questa è una locomotiva che è stata acquistata dall'allora sangritana tanti e tanti anni fa e poi messa nel deposito officina di Via del Mancino. Noi l'abbiamo portata nel nostro moderno deposito officina di Torre della Madonna e dopo un certosino lavoro molto amatoriale e molto di volontariato delle nostre maestranze siamo riusciti a consegnare nuovamente questa locomotiva che secondo me è una testimonianza fattiva e concreta del passato trascorso di Sangritana. Questa vaporiera, vi faccio fare una promessa, non è stata mai adottata dalle ferrovie dello Stato italiane. È stata una vaporiera nata specificatamente per la Lombardia, per il Veneto e per la Liguria e per l'Alta Valtellina perciò parliamo della Lombardia spostata verso le Alpi. È stato un esperimento che si è composto di diverse migliaia in tutta Europa, in Italia ne sono arrivate poche decine però è stata usata per di più per piccoli trasporti di pubblico e piccoli trasporti di merce bensì adoperata in maniera più forte nei trasporti all'interno delle aree portuali perché ha una piccola autonomia dovuta ad un piccolo serbatoio di carbone può contenere massimo 1000 kg di carbone, perciò una tonnellata che gli consentono un'autonomia di 25-30 km anche perché però possiamo sempre dire che nel 1914 un trasporto ferroviario di 25-30 km era un segno trasporto ferroviario.